un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che dopo una pausa appunto tra superman e notizio ho lasciato un attimo a metà il discorso di marvel now che riprendo quest'oggi parlandovi di un'altra testata di marvel now uscita credo ormai quasi due settimane fa comunque si tratta del numero 1 di capitano america in versione appunto marvel now allora il menu di questa testata vede il rilancio appunto della testata di capitano america ad opera del già citato rick remander e di john romita junior allora io onestamente quando ho visto le solicit le anteprime non ero convintissimo da questa testata invece pur rendendomi conto che è veramente molto poco quello che si è visto in questo in questo primo numero perché la storia appunto di poche pagine poi ci sono altre storie mi sembra un pochettino più interessante un pochettino fuori dalle corde normali di capitano america cioè quelle a cui ci ha abituato a brubaker per ormai quanti anni sono quasi dieci anni che ha lavorato su capitano america cioè dello spionistico supereroistico appunto le classiche atmosfere alla brubaker che possiamo continuare a seguire per chi segue appunto il soldato d'inverno qua viene spostato capitano america in un contesto un pochettino più fantascientifico ray mender dice perché se lui è un uomo bandiera deve fare solo missioni di spionaggio lo mettiamo in una situazione un pochettino diversa vediamo come si sviluppa per adesso è interessante interessante anche come il rapporto tra lui e sharon carter per quanto appunto ha malapena accennato sospendo un attimo il giudizio è meno peggio di quello che credevo la testata però un attimo sospendo il giudizio appunto il remender che scrive a me piace molto ai disegni c'è john romita jr allora john romita jr c'è un discorso da fare perché john romita jr che possa piacere o non possa non possa non piacere è uno dei più grandi talenti che la marvel ha avuto molto più figlio come stile di jack kirby piuttosto che del padre john romita jr a me le sue le sue le sue la sua la sua semplificazione stilistica la sua ipercinicità mi ricordano di più jack kirby che john romita senior però da un bel po di anni a questa parte quasi dieci diciamo mi sento di salvare praticamente tutto solo fino agli eterni poi vabbè war war hulk wolverina ancora ancora li possiamo salvare però è sempre stato abbastanza tirato via ultimamente john romita jr e il problema che mi son detto per tanti anni è l'inchiostratore perché gli affidano molto spesso claus johnson che è bravissimo io ultimamente ho comprato anche dei libri di claus johnson però magari non è adatto a un disegnatore che è già molto poco definito nelle matite bisogna qualcuno che lo definisca meglio nelle matite come ad esempio scott enna che lo dice che lo inchiostrava sull'uomo ragno scott enna è quello che l'ha inchiostrato in avenger versus x-men ed era un leggero miglioramento ma anche lì c'erano qualcosa che non faceva impazzire e allora mi sono detto allora sarà il colore di dean white che dà delle tridimensionalità che non 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 fanno parte dello stile di di romita cioè lo appesantiscono non lo so cioè insomma era poi sono arrivato alla conclusione che probabilmente il problema è mio nel senso che john romita jr è un grandissimo disegnatore ma forse con non è riuscito a rendere il suo stile al passo con i tempi e soprattutto con le tecnologie di colorazione attuali per cui qualunque cosa faccia sembra un po tirata via soprattutto con queste colorazioni molto definite non lo so non lo so probabilmente il problema è che è troppo classico per i canoni attuali e che quindi non non ci sia sempre qualcosa che non va non vi so dire non vi so dire io posso dire che comunque è un grandissimo e merita il maggior rispetto in assoluto perché alcune delle delle tavole più belle dell'universo marvel sono di john romita c'è john romita jr ha disegnato praticamente tutti i personaggi marvel tutto praticamente quasi tutti magari non avrà disegnato rocket raccoon però i tre quarti dell'universo marvel importante l'ha fatto e l'ha fatto più che egregiamente il sommario della storia continua con captain america black widow la testata di capitano america vedova nera scritta da call and ban e disegnata dall'italianissimo francesco francavilla che qualcuno mi ha detto anche a somigliarmi un complimento vi ringrazio allora francavilla alla storia ritorna invece alle atmosfere di cui vi dicevamo al allo spionistico super eroistico di cui vi parlavo prima no cioè c'è in mezzo l'impero segreto ci sono in mezzo le classiche storie a cui ci ha abituato a brubaker quindi call and ban torna su binari un po più classici francavilla ecco è il classico disegnatore antitesi rispetto a all'ondata image iper iper trofica che ci è stata fino agli anni 90 ed è molto classico però la cosa bella di francavilla è che oltre a disegnarsi si colora e quindi la sua colorazione è piatta praticamente per tre quarti c'è le sfumature sono poco e nulla però da quel gusto pulp proprio perché appunto lui sa che risultato vuole arrivare veramente interessante c'è quel gusto un po retro un po anni 70 mi piace veramente tanto secondo me è molto adatto per per questo genere di testata e fa parte di tutta di una serie di autori classicheggianti che a me sta piacendo tantissimo e su cui la marvel sta investendo ha investito veramente tanto vi faccio soltanto due nomi marcos martin e paolo rivera andatevi a vedere il blog di paolo rivera perché è una cosa che non ve la sto neanche a dire conclude questo albo la testata di capitan marvel ex miss marvel allora anche qua quando c'erano uscite le le anteprime io ero un po ci ho detto vabbè insomma che cosa vuoi cioè adesso al carol denvers la vogliono chiamare capitan marvel perché ci manca capitan marvel e allora visto che c'è miss marvel facciamo così no e quindi ero un po prevenuto invece la storia è interessante cioè ci dà dei delle motivazioni per cui carol denvers decide all'inizio a malincuore di accettare il ruolo di capitan marvel lei è molto legata al suo predecessore marvel l'alieno kree che appunto ha indossato il manto di capitan marvel morto di cancro e quindi questa è una sorta di evoluzione che parte già dalla testata miss marvel che era uscita praticamente subito nel post house of m in cui carol cerca di migliorare se stessa per essere la più grande super eroina visto che nell'universo di house of m era la più potente in assoluto e quindi ci può stare questa evoluzione e nel personaggio carol denvers è un personaggio che a me non mi ha mai fatto impazzire per dirvi io la confondevo molto spesso con un'altra bionda che è sharon carter di cui parlavo prima mi sembravano assolutamente sovrapponibili come personaggi invece qua si inizia a vedere un pochettino l'individualità di questo personaggio e le sue motivazioni il fatto di comunque di dover dimostrare di essere meglio di quello che gli altri credono quello di cui se stessa crede cioè meglio di quanto creda se stessa il suo passato anche con l'alcolismo eccetera eccetera i disegni a me non mi fanno impazzire onestamente perché sono di impatto però non lo so mi sembrano io io riconosco le pennellate di photoshop e non so se sono io che sono particolarmente esperto da riconoscere i vari sgami oppure se è abbastanza infantile alcune 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 cose tipo per dire per fare i ciuffi biondi cosa fai fai la massa nera e poi cancelli con la gomma boh non lo so non lo so non sono del tutto convinto dai disegni il costume invece ve lo dico subito mi fa cagare tanto bello il costume di miss marvel ok che è diventata capitan marvel però questo costume onestamente mi fa abbastanza cagare purtroppo è così comunque tutto sommato una testata interessante vi posso dire che alla fine non è tra le più brutte del marvel now non è neanche tra le più belle vediamo come prosegue soprattutto la testata che dà il titolo al appunto all'albo unica cosa unica nota negativa porca miseria si riesce a dare un costume univoco per capitano america perché posso capire che ci sia il reboot però cassadei usa uno stile nel sud di costume opegna che disegnerà la serie di vendicatori ne usa un altro romita junior utilizza lo stile lo stile di opegna però ci fa le alette non dipinte ma in come classiche quelle della maschera classica di capitano america insomma diamo un uno stile univoco una volta per tutte buona lì cioè non vedo perché debba avere 34 tipi di varianti diverse di costume comunque 3 euro e 50 capitano america numero 1 attualmente nelle edicole per adesso è tutto alla prossima